La sostenibilità è l'orizzonte che ci guida indicandoci la direzione. Per noi di Estra significa essere presenti sul territorio con l'energia delle nostre persone e lavorare al fianco di clienti e fornituri nel rispetto dell'ambiente. Significa vicinanza alle comunità di oggi con uno sguardo rivolto alle generazioni di domani, perché è nel futuro che da sempre troviamo il senso del nostro agire presente. Grazie.